La mattinata dell'ex governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, inizia poco prima delle 11. In programma c'è l'incontro in Aula Magna con gli studenti dell'ultimo triennio del Tito Acerbo per una lezione sul pensiero di Federico Caffè, l'economista pescarese che si diplomò proprio nell'istituto tecnico nel 1932. Prima però Visco, insieme al dirigente scolastico Carlo Di Michele, al sindaco Carlo Masci e a monsignor Tommaso Valentinetti, ha inaugurato una targa in onore di caffè che campeggia all'ingresso della scuola e che riporta alcune frasi dell'economista pescarese. Quindi l'incontro con gli studenti, ma anche professori ed altri economisti ebruzzesi. Per l'occasione la scuola ha realizzato una pubblicazione in cui sono raccolti gli scritti e gli insegnamenti di caffè, che fu uno dei principali diffusori della dottrina keynesiana in Italia, occupandosi tanto di politiche macroeconomiche quanto di economia del benessere. Visco lo ha ricordato così, partendo dai numeri con un'avvertenza. Guardiamo alle persone, questo non vuol dire che quei numeri non fossero importanti, lui stesso non sa che fossero importanti, però quello che pensava è guardate quel numero è un numero astratto, dietro ci sono le vite di tutti e quindi stiamo attenti agli effetti distributivi. Il punto di fondo è che il caffè era contro l'ingegnemia culturale di una particolare corrente di pensiero. Aveva una capacità straordinaria dell'andare a ricercare nel pensiero, nel grande libro dell'economia, del pensiero economico, ciò che di volta in volta si poteva utilizzare per rispondere a sfide in corso e ai bisogni della società.